Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada in A1 segnaliamo tratto chiuso per lavori verso sud tra Rioveggio e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 18 di questo pomeriggio. Sempre in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici e tra Calenzara e B1 variante verso Roma tra A1 a 11 e Firenze Scandici. E ancora in A1 coda in uscita a Firenze Scandici nelle due provenienze. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. In Fipiricode attratti ancora una volta verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandici. Siamo al traffico ferroviario, sono in corso e proseguono fino alla prima metà di luglio. Lavori di rinnovo di binari e deviatoi nell'area della stazione di Firenze Campo di Marte. Le attività di cantiere si svolgono nelle ore notturne per non interferire con la circolazione ferroviaria. Buon vero Sento Scandici è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!